Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Come vedete il video di oggi porta un nuovo format sul canale, le Scacchi News, dove parleremo e vi terrò aggiornati su tutte le principali notizie e novità del mondo degli scacchi. Ma prima di iniziare fatemi ringraziare Francesco, nuovo abbonato alle mie video lezioni. Quale momento migliore di oggi per proporvi questo nuovo format? Perché sono tre le notizie che dobbiamo approfondire. La prima è di ieri la notizia bomba dell'annuncio fatto da Karzen riguardo il prossimo campionato del mondo. La seconda è il cosiddetto Kaso Dubov che sta spaccando i tifosi e la federazione russa. La terza riguarda l'abbandono di Sonis nella sfida controbasso che ha lasciato perplessi molti commentatori. Partiamo! Il campione del mondo Magnus Karzen potrebbe rinunciare al titolo degli scacchi classici a meno che non sia Firuja il suo prossimo avversario. E' questa la notizia bomba. Se qualcun altro oltre a Firuja vincerà il torneo dei candidati è improbabile che giocherò la prossima partita del campionato del mondo. Queste le testuali parole di Karzen in un podcast in norvegese trasmesso ieri. Alla conferenza stampa finale dopo l'undicesima partita Karzen sembrava già accennare a questa possibilità. Il torneo dei candidati è previsto per giugno del 2022 e il prossimo campionato mondiale è previsto provvisoriamente per l'inizio del 2023. Ma il campione in carica potrebbe non farne parte. Infatti ad una domanda aveva dato una risposta un po' sconcertante. La domanda era se si aspettava di lasciare andare il titolo alle sue condizioni oppure perdendo contro un nuovo sfinante. Karzen aveva risposto prima di tutto questa è un'ottima domanda però adesso non posso rispondere con certezza. Alla cerimonia di chiusura di Dubai il grande maestro norvegese ha affermato che gli è stato chiaro per la maggior parte dell'anno che questa partita del campionato del mondo doveva essere l'ultima. Non significa più tanto quanto una volta ha detto Karzen aggiungendo che anche dopo la vittoria non ha sentito che il positivo ha superato il negativo di tutta questa preparazione e che la gioia di vincere non era stata avvicina a ciò che poteva immaginare. Il campione del mondo sottolinea però che non ha intenzione di abbandonare gli scacchi in generale ad esempio è molto motivato a difendere i suoi titoli Rapide Blitz a Varzavia che è un mondiale che si svolgerà dal 26 al 30 dicembre di quest'anno e che naturalmente su questo canale guarderemo insieme e commenteremo insieme approfonditamente ha detto anche Karzen che continuerà a giocare a scacchi perché gli dà molta gioia ma già nel mezzo del campionato del mondo qui a Dubai aveva iniziato a non vedere l'ora di giocare il mondiale Rapide Blitz questo Natale e sembra che non dobbiamo preoccuparci nemmeno di perdere Karzen negli scacchi classici infatti ha fissato un nuovo obiettivo che è quello di rompere il muro dei 2.900 puntiello lo rivedremo infatti al prestigioso Tata Stee 2022 in programma a metà gennaio. Se Firugia non riuscirà a vincere i candidati potremo assistere ad una ripetizione dello scenario del 1975 quando il mondo degli scacchi ottenne un nuovo campione del mondo senza che il campione in carica perdesse la partita l'undicesimo campione del mondo Bobby Fischer ha perso infatti il suo titolo perché non è riuscito a concordare con la FIDE i dettagli per la partita contro lo sfidante Karpov a cui poi è stato assegnato il titolo. Come sottolinea il grande maestro norvegese John Ludwig Hammer questa volta potremo assistere ad un mondiale tra il vincitore dei candidati ed il secondo classificato. Voi cosa ne pensate? Io da una parte lo capisco e naturalmente lo accetto dall'altra è una notizia che mi lascia con un po' di tristezza perché penso che l'era Karzen dovrebbe continuare. Passiamo adesso al caso Dubov. Dubov aspramente criticato in patria dopo che al termine dell'undicesima partita del mondiale il principale secondo di Karzen il grande maestro Nielsen ha rivelato che come nel match contro Caruana anche stavolta Daniel Dubov faceva parte del team di Karzen. Apriti cielo, su Dubov sono piovute critiche pesanti su Twitter Karjakin ha condiviso la sua sorpresa nello scoprire che Dubov aveva lavorato contro Nepomnisci l'avversario di Karzen del 2016 cioè sempre Karjakin ha ribadito che troverebbe molto strano se uno sfidante assumesse un grande maestro norvegese per lottare proprio contro Karzen. Il più accanito nella critica però è stato il grande maestro Shipov che è il commentatore di scacchi più famoso della Russia che ha condiviso la sua sorpresa e le sue critiche sul canale Telegram Crestbook anche un po' drammatico ha scritto per quale motivo Dania? per quanti soldi ti sei venduto? anzi non ha scritto per quanti soldi ha scritto per quanto ma naturalmente veniva di sottofondo evidenziato il discorso del compenso continua Shipov dice non potevi restare fuori almeno per questo match dice avresti dovuto commentare l'evento su una qualsiasi piattaforma di scacchi col tuo modo brillante e toalentoso Shipov ha poi concluso che pensa che Dubov adesso non potrà più far parte della squadra russa più pragmatico il commento dell'ex campione del mondo Karpov che anche lui ha parlato un po' del compenso infatti ha detto se Dubov non sta ricevendo uno stipendio dalla squadra nazionale russa allora è possibile mettere in discussione i suoi valori ma è una persona libera e può fare tutto ciò che ritiene meglio per se stesso se invece sta ricevendo uno stipendio allora la situazione è più seria e più difficile da capire come Shipov però anche Karpov ha suggerito che potrebbe essere problematico per Dubov continuare a giocare per la squadra nazionale ci ha messo il carico un'altra figura ben nota in Russia che è Ilya Levitov che è un amante degli scacchi uno scrittore, un imprenditore e un intervistatore che anche lui ha scritto su Telegram che ad essere onesti all'inizio non ci credeva ma poi quando si è rivelato tutto vero non è riuscito a capire come mai Dubov che Dubov abbia lavorato per Karsten oltretutto ha aggiunto che Dubov ama così tanto dire quanto sia orgoglioso per giocare per la squadra nazionale russa e che come russi dovrebbero sempre vincere però stavolta ha lavorato per il nemico Dubov dal canto suo non si è scomposto più di tanto infatti ha risposto alle critiche in un'intervista al sito sportivo russo Championat sottolineando innanzitutto che aveva già accettato di lavorare con Karsten che il contratto era stato firmato prima della fine del torneo dei candidati cioè prima che si sapesse che lo sfidante sarebbe stato un russo il punto principale di Dubov è che lui vede una grande differenza tra una partita individuale e un campionato a squadra infatti dice sono relativamente tranquillo perché questo non è un problema per me e penso che non sia stato un problema neanche per Nepomnici perché una cosa è quando si parla dello stato della nazionale russa e una cosa è quando si parla di un match tra due persone cioè in questo caso era una partita tra Karsten e Nepomnici non era una partita tra Norvegia e Russia continua poi dicendo che ricamare su questa storia per farla diventare un grande problema nazionale gli sembra una cosa veramente assurda e voi invece cosa ne pensate? io immaginavo che Dubov fosse stato di nuovo nel team di Karsten che si era già trovato molto bene a lavorare con lui troppo importante questo evento troppi soldi in ballo anche come compenso passiamo adesso all'abbandono di Sonis contro Pierluigi Basso al nono turno del campionato italiano Francesco Sonis sta affrontando di bianco uno dei favoriti del torneo quel Pierluigi Basso che alla fine diventerà campione italiano Sonis esce alla grande dall'apertura ma come è successo contro Brunello non riesce a concretizzare il vantaggio non si ritrova male però rimane il leggero vantaggio quando inaspettatamente non gioca la 31esima mossa ed abbandona praticamente tutti i commentatori rimangono stupiti da un abbandono che appare assolutamente prematuro ci penserà la federazione italiana a spiegare l'accaduto Sonis nella posizione corrente aveva una torre in presa doveva cambiare le torri in D8 e poi spingere il pedone in E5 ma mentre pensava ha toccato un pezzo che non viene specificato uguale io penso che nella sua mente sia andato avanti di una mossa toccando proprio il pedone nessuno se n'era accorto ma Sonis con grande sportività si è autoaccusato ha chiamato Basso che non era da scacchiere ed ha abbandonato quindi grandissima sportività di Sonis che di questi tempi va solo applaudita secondo me le news finiscono qui spero che questo nuovo format vi sia piaciuto se vi è piaciuto non scordate il like non scordate di iscrivervi al canale in futuro migliorerò la grafica di questo formato aggiungerò la cam eccetera eccetera sempre nell'ottica di migliorare il canale per adesso vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo domani con un nuovo video a presto a presto